buonasera siamo alla kickoff stadium trofeo ceca siamo qui con la squadra del tramontano santanillo una squadra che ha avuto problemi fin dall'inizio legge al madrid sempre problemi di trovare il quinto il portiere di solito ma stasera si è dovuto un ottimo portiere l'avete già roto l'abbiamo trovato finalmente abbiamo trovato tutto un acquisto è importantissimo di falco giovedì non conoscevano stasera nove e mezzo di un talento un talento veramente che si sono visti con il jack ha fatto riparto quasi da soli anche giocato a tre in difesa c'è stato l'impegno della squadra si è visto tranne qualche piccolo personaggio che forse da cambiare e si è sentito chiamato in casa da reddrizzare un po non ci siamo riusciti in quattro partite alla panchina del real buonasera buonasera leader di questa squadra ancora bellini l'anima di questa squadra il fiato di questa squadra e la boccia di questa è bacia però è meglio che sta in panca secondo me è però perché do più a grido rompe di meno le palle ragazzi ma che in mano dai dai che volevo dire questo real ma ci parla da 10 ma questo real sta fermando per ora la capolizia però non ci seccare per piacere però noi stiamo giocando bene e continuare in bocca al lupo per il progetto la meraviglia si riprendono dopo cinque giornate adesso una cenerentola adesso tocca a noi dalle ceneri dalle ceneri è risolta quindi adesso dalla prossima partita mercoledì elementi veramente questa squadra può dire molto abbiamo visto una squadra viva dobbiamo solo risolvere la tegola portiere con le portiere se no in caso ci abbiamo in rosa ci siamo anche noi il reale c'è va bene alla prossima siamo arrivati